Eccoci qua amiche miei, abbiamo sfornato, guardate che bontà, adesso andiamo a impiattare, super buono, un profumazzo, guardate che bontà. Vedete, questo è super buono, è buonissimo, fatelo mi raccomando e poi quando lo fate commentatemi sempre, fatemi sapere a voi come vi è uscito, va bene? Qui è tutto dalla cucina di Francozza, un bacio con tutto il cuore e grazie per tutti i commenti che mi mettete sempre su YouTube, siete gentilissime. Ciao amiche mie, una buona giornata.